Ciao a tutti ragazzi sono Fakos Game Over e ben tornati su Dragoobo Z Dokkabato ragazzi auguro a tutti i buoi ragazzi un buon anniversario ragazzi qua raga su Dragoobo Z Dokkabato la versione global e sono usciti ragazzi i due personaggi ban ovvero Broly e Gogeta ragazzi erano usciti sulla versione Japan ma aspettavo ragazzi che li avessero aggiunti sulla versione global e come potete ben vedere ragazzi ho appena tenuto da parte le Drago Stone sono pure uscito a far male ragazzi ci faremo un bel paio di pullate e sono molto contento ragazzi perché noi andremo a pullarci ragazzi ho visto pure i ban ragazzi e vi dico la verità che non è niente male noi andremo a pullare ragazzi su Gogeta ragazzi e quindi ragazzi auguro a tutti voi un buon anniversario su Dokkabato fatevi sapere nei commenti se lo avete trovato allora ragazzi qua fate così allora più 30% eh più 30% scusate più 30% poi pek poi 40% poi abbiamo fi poi ragazzi ovviamente poi 40% 45% poi 50% più 30% e 6% garantito quindi ottimo allora devo dire ragazzi che il ban non mi sembra niente male abbiamo anche pure ragazzi ovviamente il nostro caro Gogeta ragazzi ma vabbè l'avete visto di sicuro uno dei video della versione ovviamente di di Giappa ragazzi ma comunque ragazzi sono emozionato con il mio obiettivo è attuare Gogeta ragazzi mi raccomando ragazzi otte che andiamo avanti lasciate ragazzi come al solito datti like iscrivetevi al mio canale se non avete qua fatto commentate ragazzi se volete vedere un prossimo video oppure ragazzi che andremo a cercare Broly mi raccomando ragazzi datti like e premete la campanella la notifica per perdere altri prossimi video allora ragazzi iniziamo hanno aggiunto pure ragazzi le animazioni nella versione Giappa le conosciamo di sicuro ma qua è roba finalmente riusciremo a capire vediamo il che sito allora abbiamo Riff Ciccio e Sette Vegeta oddio la Fusion no vabbè ha detto guaita comunque Fusion ah ma parte subito così ragazzi con l'animazione Fusion no vabbè bellissimo no vabbè ragazzi ma è bellissimo e mica ragazzi potrebbe uscire il primo alternativo no ragazzi speriamo ragazzi che non sarà così non si può sperare ragazzi occhio comunque molto bella raga anche se mi sarebbe piaciuto vederlo pure la versione Super Saiya Blue sarebbe stata ancora molto più figa allora veniamo qualche personaggio buono attenzione attenzione e abbiamo questo Vegeta ah ce l'avevo già ma no mi testo vabbè me l'ho porto raga comunque fu ability 2 vabbè ragazzi abbiamo prima trovato un LL portato a casa ma va bene vedi ragazzi partiamo con la seconda multi dopo avemo 5 e dopo i che avemo a fi vabbè ragazzi una prima LL portata a casa abbiamo 57 58 Tessig e piccolo ok ha detto di nuovo vuoi da 2 di fila vediamo poi le animazioni ok ah è una lunga camia mea addirittura mi sa che raga le puste hanno partito il bot mi fai schifo e attenzione azz no vabbè raga un bro LL raga so che non mi credete ma l'avevo già to raga quindi ne ho due coppie what the fuck e abbiamo due LL portate a casa e vabbè questo non arriva il staglio sta un po a cadere dopo di tutto raga però ragazzi non ci arrederemo raga SSR Bojack ma che cazzo raga tele le fila non ci credo doc facci piano va bene ok che siamo raga a non arriva so io mi sa che Bojack non c'ave infatti non c'avevo ma va bene lo stesso io raga ve lo faccio vedere che se nessuno mi crede vedete ne ho due coppie fila vabbè raga tele na botti culo ma non è quella che cercavamo va bene lo stesso tele raga allora margibu vegetta e di nuovo cicciotto ok raga tre tre vuori di fila ma si può sapere che cazzo sta succedendo vabbè abbiamo super saiyan super saiyan god super saiyan blu bello tre vuori da raga tre vuori da di fila raga non mi era mai capitato una cosa del genere raga non ci crederò mai anche se ho queste cuffie raga che d'osso cuffie bluetooth ma non ci credo è tacù le carnival io neanche ce lo avevo e beh get lo spessai a blu mi sei uscito un bordello di volta lo sai raga che cazzo sono queste pure raga 4 lf di fila ma sono 4 rocca facci piano facci piano comunque è una coppia va bene lo stesso raga mi mancava comunque ok ragazzi abbiamo la fi mi sei uscito un bordello di volte lo sai vai con la fi allora raga motocca sta un po' esplodendo abbiamo 4 lf fila ma che cazzo sta succedendo virus tax e yanco vabbè naga se usciva quattra volta guarida proprio esplodevo si fermato sulla super saiyan che merda niente animazione niente di che va bene allora vediamo niente attenzione niente eeeh bella mchiavic eeeh super boh va vabbè vabbè ragazzi io direi di fare qualche atto giro vediamo se usciamo a trovarlo coraggio ti prego doca fammi toare gogetta solo go no che brutto che brutto ma dai no solo go e boss vai guys vabbè eeeh ok quindi non sarò gacche però la metà sensazione che vai in mente anzi penso chi potrebbe uscimi ma no il personaggio che mi tessatato e anche pure che c'ho già qualche fuabiti che non ho ancora finito raga eeeh è fatti e yoshin mi pareva proprio che uscivi il tu e lo sapevo vi dico raga che ce l'ho comunque fuabiti 2 e vabbè mo faccio fuabiti te vabbè lo stesso dai raga a tuo giro forza fammi tuare gogetta ti prego mi fai stigio irritato rif tesi oeeh il tio della memoria perfetto di nuovo future e vai hanno detto future raga no bellissimo oh comunque raga è bello comunque raga quanto sono gasato speriamo che si trova dai attenzione eeeh va bene ok trax va bene raga e so 5 leffi fila e leffi scusate ma raga vi sto confodendo da lejets 5 lere raga go come un rich raga di solito non mi era mai capitato su lejets vabbè a paio volte che ero fortunato ma qua raga sto esplodendo mi mancavo sto trax buono e abbiamo nuova sheron ok dunque abbiamo trattato aga in totale 5 lf mo si fa questo e sarà garantito necessario garantito e vediamo aga buona sorte che capiterà ok va bene golden attacks ok super saiyan super saiyan god se fermato solo super saiyan god vabbè vai guys mi aspettavo qualche altra animazione ma va bene allora vediamo un po' spero che sia però gogetta per favore il gioco fammi felice mamma mia sempre ogni volta a sto stronzo che capita dai e fammi felice ti prego dai che è lui dai ti prego ma che sia lui no bad e vabbè non è il personaggio che mi aspettava raga vabbè raga un po' mi è un po' dispiaciuto che non ho trovato proprio lui che volevo cercarmi intanto mi predo queste vabbè intanto mi predo anche questo gogetta il nostro post raga ma sapete che vi dico voglio fare un altro giro raga mica ci fermiamo qui voglio farmi qualche atto tentativo per trovare raga non mi voglio rade voglio trovare raga ok va va bene il sig guis e il cicciotto ok special god se per special god si è fermato non è partita un'altra animazione e qualche id al primo giro raga ha dato molto bene ma facciamo un altro secondo giro e poi finiamo qui è got e gt è schif ma quante coppie mi sa capitato questo mamma mia è rotto di va vabbè non faccio fuo bt2 questo e ho preso questo guan ok dai forza dai cicciotto e vegeta ok hanno detto fiucio raga è fiucio di fila le animazioni stanno poi pazzete però dammi gogetta ti prego forza gogetta tu con la fiucio vieni fuori ti prego fammi felice fai forza ignorata che scusate i messaggi whatsapp eeeh i tax no non mi interessi ti prego vai su mostrati mostrati ma aiuto sei l fiffilo ma non ricordavo che erano le buone vabbè a parte che non ce avevo ma non è possibile di di gioco stai esplodendo il animazione a kamikaze però dammi gogetta ti pego di nuovo loro due va bene però fammi vieni da comunque la quattro voti fila stanno uscendo animazioni pazzute proprio ragà oh super saia blu buono fammelo trovare gioco dai forza mi so fatto rag un bugio di culo per fammi tutte ste stones ti prego fammi trovare ti prego vieni fuori per favore gogetta ti prego eccolo eccolo finalmente eccolo e finalmente eccolo e si gode che l'abbiamo trovato cazzo si gode raga godissimo e caroli va bene ok raga finalmente e l'abbiamo trovato raga guardate quanto è bello raga quanto è fiero quanto godo finiamo raga sto giro che io sono a siamo a 12 minuti raga facciamoci quest'ultimo giro e poi raga ci fermiamo qui mamma mia raga quanto sono contento che l'ho trovato vabbè qualsiasi personaggio che mi capita da bene allora gote yamco e virus va bene perfetto ragazzi godo tantissimo che firmate lo abbiamo trovato ci siamo portati a casa mamma mia quanto sono contento si fermato per la che la terza volta vabbè allora vediamo un po ok va bene ok è gotex vabbè non mi importa ok direi che ci siamo anche fermati direi che abbiamo anche speso troppo ma sapete che voglio fare voglio farlo un'ultima volta raga ultimo giro e poi la finiamo su 6 raga perché proprio raga sono emozionato raga non resisto voglio farmi un'ultimo giri da finire e poi raga sono a posto poi non continuo più nel prossimo video ragazzi faremo un giro da broli a te stavolta che si è fermato in forma sbassare un god ah si raga di sacca 4 se non sono soddisfatto raga di aver fatto gogetta ma anche se fosse raga ho fatto un po' una minghiata proprio che ho speso vabbè raga faccio il folle proprio non mi porta quel personaggio mi capita me lo porto a casa comunque va bene lo stesso voglio finirmi da tutto raga questo giro vada che va bene lo stesso mi sta bene e quello si ottimo va bene dai vai atti pochi giri e poi raga ci fermeremo qui vegeta vanno a fusion hanno fatto a fusion 4 di fila raga è la 4 fusion che mi è capitata o è la 5 raga scrivetemi nei commenti quante volte mi è uscita fusion mamma mia gold mamma mia raga sei gold mamma mia sei gold oddio raga 7 leffi fino 7 leffi ma quante leffi sto trovato raga buono che non c' avevo non ci credo non ci credo ragazze non ci credo mai non è possibile me l'ho nato ho fatto fra bit in due godo goku kayo ok raga mamma mia mi sento mario raga oddio mamma mia raga mi sento mario non ci credo raga fu a bit uno di tax mamma mio godo raga raga leffate sono scelte sti due i bibbi eroici non siete aspomato i bibbi eroi gandhi caccarot no bellissimo vabbè quello lo che ma bello raga ma che animazione sono scelte mo raga spero non mi potrebbe uscire qualche altro tranks raga perché sennò esplodo proprio mi se dovesse uscire raga mi calo i pattoni vabbè no raga tanto che scherzo non c'è oddio fake auto ma che cazzo oh vabbè raga auto raga lf era questo fake auto ma non mi idea che era mi raga mi mancava raga auto lf fila raga godo vabbè ragazzi io direi che sta auto ci femmiamo qui raga mamma mia che pull latte pazza abbiamo fatto ma che pure animazioni sono uscite raga io godo come un riccio raga vi ringrazio di aver guardato questo video fino alla fine e sono soddisfatto abbiamo trovato un goget abbiamo trovato una modello di lf abbiamo trovato una coppia tax raga questo è il nonno anniversario più bello in tutto modo io auguro a tutti voi raga un buon anniversario fatevi sapere come ti se avete trovato mi raccomando ragazzi che condividete con i vostri amici e commentate se lo avete trovato e noi ragazzi come al solito ci vediamo per un prossimo video ciao ragazzi